ciao ragazzi siamo in questo nuovo video sono sempre io free to buy e oggi siamo per parlare qui in questo nuovo video un gioco che avete visto dalla copertina non mi è piaciuto per niente giocai t-pop più di cinque anni fa mamma mia ricks basta e comunque ci giocai a mio zio mi porto tutte e tre questi giochi tutta la saga in una botta intorno ai tieni e tu ah che figo e per quando ci gioca con i giochi sulla psd3 con tutte le cose lo faccio dire i mastery mamma mia come fanno ciò mi sto chiedendo a cosa comunque mi ritrovo questi tre giochi non vedete quali sono e comunque questo gioco mamma mia è inguardabile ricetta e crank ci stavo al posto qualche giorno fa l'ho soffritto questo video per cosa scoperto che sono piaciuto ai giri ho detto youtuber che si c'era nella mia mia città questo era troppo fatta a bimbo minchia cioè ci poteva giocare quindi quelli tre anni ma ho piaciuto di questa età c'era un gioco così c'era tutto il rispetto ma è inguardabile inguardabile mamma mia poi ci mancava solo il timbalano alfabeto mamma mia un gioco che però pure per l'età che c'avevo alla fine non riuscivo manca andato a farlo perché uno dovesse un po' più brutto però mamma mia inguardabile inguardabile c'è un gioco che potesse fatto rendere meglio nel gameplay perché il gameplay non era un gran gioco cioè ti trovi la un po' di esplorare niente perché invece i giochi o per un mondo mi piacciono questo mamma mia però ora chiedo un altro parere al mio grande amico free secondo ecco no perché a ragione del mio socio che questo è un gioco di merda veramente schifo al cazzo e non merda non merda e non quando sono a scendere la mia città sta andando quindi ora colpo l'occasione per dirvi piace e mi piace ripeto ancora una volta che qui sono uscendo parecchi video e che cioè sto avendo tanto tempo e però tra poco mi fermevo perché comincia ad essere a fine maggio e a fine maggio studiava tantissime perché poi non è che vado alle superiori io vado alle medie quindi mi accolano ragazzi lasciate mi piace condivete iscrivetevi e commentate e seguitelo anche su google più che è l'unico sociale che io sono quindi ciao 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 ciao